Ministro, qui al meeting per parlare di autonomia. Dopo tutto quello che è successo, la guerra, la pandemia, quanto è centrale? Teme che il tema dell'autonomia venga un po' dimenticato? Io credo che abbia una grande rilevanza perché intanto è previsto dalla nostra Costituzione. Dobbiamo uscire dall'ideologia del passato, dal derby nord-sud, dal connotare coloro che vogliono l'autonomia come pericolosi eversivi. L'articolo 116 della Costituzione prevede l'attuazione dell'autonomia e questo perché è importante nella vita dei cittadini, perché rende più efficienti le nostre istituzioni, attua il principio di sussidiarietà e quindi avvicina il luogo della scelta decisionale al territorio e rende chiaro chi fa che cosa tra comuni, province e regioni. Quanto margine avranno i territori che chiedono autonomia nel gioco del PNRR? Intanto io mi sento di dire che i sindaci che con grande fatica anche personale, senza risorse, senza collaborazioni e risorse umane, sono riusciti a realizzare dei progetti e magari hanno visto che quei progetti sono entrati bene in graduatoria, francamente guardano con molta diffidenza il cambiamento del PNRR perché un conto sono i piccoli correttivi a cui faceva riferimento Gentiloni, un conto è lo stravolgimento, la revisione del PNRR. Noi abbiamo dei tempi, delle scadenze e delle riforme da fare e quindi a me preoccupa molto sentire messo in discussione un lavoro che era già stato avanzato e che deve essere invece completato. E al tempo stesso mi preoccupa la condizione degli enti locali che hanno bisogno di certezze. Le certezze si hanno sulla base di una piattaforma che è stata approvata dal Parlamento e approvata dalla Commissione europea.